Bianchi Industrie ha una mission molto precisa e di quella di soddisfare le esigenze dei suoi consumatori e dei consumatori finali, con l'obiettivo di essere sempre leader a livello di innovazione. Da sempre la nostra agenda si è affacciata ai mercati mondiali, cercando di diffondere i nostri marchi e i nostri valori. Nell'ultimo quadri l'anno gli investimenti in comunicazioni, in scelte e levanti stanno aumentati, vedendosi presenti in diversi continenti e riuscendo ad aprire mercati di grandi potenzialità. Abbiamo un solo obiettivo, ogni volta che una persona beve un caffè, un cappuccino o consuma da una delle nostre macchine deve vivere un'esperienza di soddisfazione. Questo obiettivo si traduce in lavoro, impegno e prodotti che facciano la differenza. Bianchi Belding, il gusto per l'innovazione. 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 Smoking of Innovazione. Il gusto per l'innovazione. Il gusto per l'innovazione. Il gusto per l'innovazione. Grazie a tutti. Sto lavorando piano appostra. Almeno piano hai comunque una sorta di controllo. Un po' sempre a misura a muro, qui correndo un po' un po', perfetto. Sono sul ruolo. Non so se non so se non so se non so se non so. Sin da bambina, il profilo di queste colline ha rappresentato per me un paesaggio accogliente. Ho sempre pensato che fosse importante conoscere il mondo, ma anche che questo fosse il luogo perfetto in cui tornare e dare valore alle proprie origini. Mi chiamo Carolina Verniano. Da oltre dieci anni lavoro nell'azienda di famiglia guidata da mio papà Franco e da mio zio Carlo. Insieme a mio fratello Enrico e mio cugino Pietro rappresento la quarta generazione. Caffè Verniano è la più antica torrefazione d'Italia. Da oltre 130 anni lavoriamo per esprimere al meglio il saper fare del nostro paese ed esportiamo l'autentico espresso italiano in tutto il mondo. Appartenere ad una tradizione di famiglia è un dono prezioso. Sono cresciuta respirando ogni giorno l'aroma dei chicchi appena tostati e ho scelto di raccogliere l'eredità dei miei antenati per portare avanti il sogno iniziato da mio bisnonno Domenico nel 1882. È un'emozione sempre unica pensare che il profumo di quelle miscele parte ancora da queste colline e arriva in tutto il mondo, con la stessa cura e la stessa passione di un tempo. A pochi passi da questo luogo nel 1882, il nonno Domenico, quando ho la prima torrefazione di drogheria. Io ho un ricordo molto vivido di questo posto perché mio padre, quando eravamo piccolini, si portava tutte le domeniche a trovare le zie che conducevano l'attività. Noi venivamo molto volentieri perché le zie ci regalavano le caramelle, quindi facevamo scorte per tutte le settimane. La cosa che mi ha sempre impressionato è stata la bellezza di questo posto, tutto in legno, tirato lucido, ordinatissimo, con dei profumi che erano meravigliosi, la cannella, i chiodi di garofano, ma il profumo del caffè appena tostato era quello che veramente indebriava e forse è questo profumo che ci ha portato ad amare questo prodotto e iniziare a sviluppare questa attività meravigliosa. Quello che facciamo da anni è raccontare il rito dell'espresso, valorizzando ogni dettaglio nel rispetto della materia prima. Abbiamo scelto di preservare la nostra artigianalità, mantenendo il processo di tostatura lente e tradizionale delle singole origini. Pensiamo sia il modo migliore per esaltarne l'aroma e portarlo in tazza. Fare il caffè è molto più di una semplice produzione industriale. È un patrimonio che va protetto, tramandato e custodito. Da volte a 40 anni compro il caffè e compro il caffè non è una cosa semplice. Tutti gli anni i tipi di caffè cambiano, cambiano secondo il tempo, secondo le piogge, secondo il clima. Lo farei per tutta la vita, ancora altri 40. Questo è il luogo dell'azienda che preferisco. È qui che è tutto a inizio, dove il caffè ancora verde è pronto per essere tostato e miscelato. Ho deciso di seguire il mestiere di mio padre perché penso che sia un'arte affascinante, selezionare le origini e definire la tostatura per ottenere il meglio da ogni chicco. Le nostre miscele sono ricette che portano in una tazzina profumi e aromi di tutto il mondo. Credo che il modo migliore di fare impresa oggi sia quello di non sentirsi mai arrivati. Ogni giorno è un'opportunità per sperimentare e intraprendere nuove sfide. Dal 1882 portiamo innovazione in un mondo di tradizione. La combinazione è perfetta per continuare a crescere e anticipare il mercato. Chi sceglie il nostro caffè sceglie un prodotto che arriva dal passato e guarda al futuro. Che si tratti di mocha, di capsula o di espresso, le nostre miscele sono sempre frutto di una selezione accurata. Un impegno che abbiamo preso nei confronti dei consumatori e che rispettiamo quotidianamente. Il vero espresso italiano non potrebbe esistere senza le sapienti mani dei nostri baristi. Quando penso agli oltre 6.000 locali che serviamo in Italia, penso ad una rete di grandi professionisti che ogni giorno porta in tazza un concentrato di cultura e si impegna a valorizzare al meglio le nostre miscele. Essere un barista caffè vergnano significa prima di tutto conoscere la nostra storia, vivere l'azienda ed entrare in contatto con chi lavora qui ogni giorno. Tutto parte dalle persone, dalla condivisione di cultura e di conoscenza. È quello che è la base della nostra Accademia Verniano, dove ogni giorno formiamo baristi che arrivano da ogni parte del mondo per imparare i segreti del nostro caffè. Con la nostra insegna Caffè Verniano 1882 abbiamo creato una rete di oltre 130 caffetterie in tutto il mondo, la miglior vetrina che si possa desiderare. Ogni volta che ci poniamo degli obiettivi a breve o a lungo termine, pensiamo sempre in grande. È il motore della nostra azienda, quello che ci ha permesso di vincere sfide che molti pensavano impossibili e di arrivare in oltre 90 paesi nel mondo. Così siamo entrati nelle case, spero nel cuore, di milioni di persone. Credo che nella capacità di sognare risieda la forza di Caffè Verniano e credo che la vera sfida sia trovare ogni giorno la chiave migliore per condividere i nostri sogni, racchiuderli in una tazzina e raccontarli al mondo, espresso dopo espresso. Caffè Verniano Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. a tutti. e 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 a tutti. host. e a tutti. 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 a tutti. e a tutti. a tutti. e 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 a tutti. a tutti. e tutti. a tutti. e a tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. cibus. e a tutti. e tutti. e... e tutti. abbiamo colpo. e a tutti. e tutti. e quindi, e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e... 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 f... e... 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie per la a tutti. 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 tutti. a 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 tutti. qui. a tutti. sopra. a tutti. 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 tutti. a 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 tutti. sto. tutti. 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 a tutti. 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 a tutti. 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 . . tutti. 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 . tutti. . 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 La distribuzione automatica o vending si è sviluppata come risposta allo stare fuori casa un sempre maggior numero di ore e rappresenta una risposta pronta, di qualità, personalizzata per le più diverse esigenze di consumo. Il vending è caratterizzato da un forte radicamento nella società dove le imprese sanno unire qualità del servizio e attenzione ai bisogni della persona come elementi distintivi e di competitività. è chiamato quindi a rispondere alla domanda di una società che richiede uno sviluppo sostenibile e di un consumatore sempre più consapevole. I distributori automatici di nuova generazione sono dotati di tecnologie molto sofisticate, sono sempre più a basso consumo energetico, usano illuminazioni a led. Le imprese del vending sono sempre più attente al rapporto con il territorio e alla riduzione dei rifiuti generati dagli imballaggi o dall'utilizzo della carta, sostituita da supporti digitali. Il servizio al cliente è fondamentale nel vending e questo viene svolto avendo cura di contribuire in modo sostenibile con l'impiego di automezzi con minori emissioni di gas serra, ottimizzando la gestione dei percorsi dei rifornimenti e utilizzando distributori automatici sempre più affidabili che richiedono minori interventi di manutenzione. Tutte queste azioni portano ad un maggiore rispetto dell'ecosistema con importanti ripercussioni sulla salute pubblica. Nei distributori automatici, oltre ai prodotti più tradizionali, si trovano anche quelli ecosolidali, biologici e a chilometri zero, oltre a soluzioni di consumo per chi ha problemi di intolleranze alimentari. Per offrire maggiori risposte alle esigenze dei consumatori, oltre ai prodotti alimentari, si trovano sempre più anche l'abbigliamento, l'elettronica e la profumeria. All'interno delle scuole, le imprese italiane di gestione del vending collaborano a progetti di informazione sul tema della sostenibilità sociale e ambientale, affinché studenti ed insegnanti possano compiere ogni giorno scelte consapevoli. Il rifiuto da scarto è l'atto conclusivo di qualunque ciclo. Non è un caso che la riciclabilità sia un altro tema strettamente connesso alla sostenibilità. Accanto ai distributori automatici, è possibile trovare compattatori per i rifiuti e contenitori per la raccolta differenziata. Molte aziende stanno mettendo in campo progetti di recupero dei fondi di caffè e tutte le macchine a fine vita vengono correttamente smaltite. Confida, Associazione Italiana Distribuzione Automatica, ha avviato un percorso di sostenibilità per le aziende associate. Il primo passo è l'impegno per il vending sostenibile. Obiettivo è appoggiare gli associati che scelgono politiche sostenibili e rendere pubblici i risultati degli impegni presi. Elevati standard qualitativi del servizio, senza perdere di vista, l'impegno etico che vede la centralità della persona e che si traduce in una sempre maggiore attenzione alle esigenze alimentari e alla tutela dell'ambiente. Tutto questo oggi significa vending sostenibile. SIGEP 2018 Siamo allo stand della Carpino SRL e ci troviamo in compagnia di Antonio Carpino che intanto salutiamo. Buonasera a tutti, grazie. Antonio, noi ci siamo incontrati nel corso di Host 2017. In quell'occasione avete presentato quella che è la vostra gamma e quei biscottini personalizzati con il proprio brand che possono lasciare davvero il segno per la fidelizzazione dei clienti. Oggi al SIGEP 2018 il salone internazionale del gelato, della panificazione, della pasticceria e del caffè. Che cosa presentate? Allora, riconfermiamo la presenza di Kika che è la società che produce i biscotti ma abbiamo aggiunto altre referenze come i cioccolatini e gli amaretti che danno maggiore visibilità a questa piccola aziendina che pian pianino sta facendo la sua strada. Che cos'è Kika? Kika è un'azienda nata per un capriccio di un amico pasticciere e facciamo, facciamo, facciamo e così abbiamo unito i nostri pensieri, le nostre forze per proporre un biscotto cortesia, una linea cortesia, un biscotto, un amaretto, un cioccolatino e chissà quanti altri articoli possiamo inserire nel corso dei nostri prossimi anni. Ebbene, passiamo invece agli articoli che voi presentate qui al SIGIP 2018, quali sono? Beh, Kika è un giocattolino nostro simpatico, mentre l'azienda che ci dà spazio in questo mercato di gelaterie e pasticcerie è la Carpino SRL che produce tovaglioli di carta. Pian pianino ci stiamo facendo un po' di spazio con nuovi articoli e quest'anno stiamo proponendo una linea di piatti in cartoncino con la possibilità di stampare piccolissime quantità in quadrigomia, quindi la possibilità per tutti di poter avere la propria personalizzazione. Ma non solo piatti in carta? No, non solo piatti in carta, il cavallo di battaglia resta il tovagliolo 17-17 dove quest'anno abbiamo oltretutto insieme con l'associazione Gelatieri, in particolare con l'associazione Ambasciatore del Gelato Italiano nel Mondo, abbiamo partecipato a una loro premiazione, a un loro concorso e noi premieremo con una fornitura di 60.000 tovaglioli ognuno dei 5 vincitori. Antonio, qual è l'indirizzo di posta elettronica attraverso cui possono contattarvi e richiedere maggiori informazioni sui vostri prodotti, dei preventivi, insomma entrare in contatto diretto con voi? Saremo sempre a vostra disposizione su infochiocciolacarpinosrl.com Voi però avete anche una pagina Facebook che è molto ricca, è molto curata, è molto animata quotidianamente? Proviamo a Carpino SRL, la nostra pagina Facebook e proviamo a invitare al clic su mi piace e subito dopo nel tasto a fianco sul mostrami tutte le novità quotidianamente in prima vista affinché possano poi avere quotidianamente notizie su ciò che... Qualche novità, qualche novità che di giorno in giorno cerchiamo di mettere dentro Bene, grazie, saluta pure gli amici che sono all'altra parte Grazie, grazie, grazie infinite E noi andiamo via in altro stand per documentare altre novità con telecamera e microfono Non andate via, SIGEP 2018 riserva tantissime altre novità e sorprese Grazie a tutti 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 Cibus Grazie a tutti 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 Buongiorno Grazie a tutti 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 Luca Grazie a tutti 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 E a tutti E a tutti E a tutti Grazie 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 a tutti E a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E a tutti Grazie 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 a tutti che sono Grazie a tutti 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 Quante sono Grazie a tutti 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 e a tutti e a tutti Grazie a tutti e a tutti e a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti e a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti e a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti e a tutti e tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti e a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti e a tutti e a tutti e a tutti e a tutti Grazie a tutti e a tutti Grazie 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 a tutti e a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Aguil Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E a tutti E a tutti E a tutti E a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E a tutti E a tutti E a tutti Grazie a tutti E 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 i E a tutti 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 E su E a tutti 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 E che E a tutti 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 Spinelli E a tutti 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 E noi E in E a tutti E su E in E su E su E su E E in E a tutti E su E a tutti E su 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 E su